Una domanda ovvero come ti senti in questo momento perché ovviamente si comincia già da domenica Coppa Italia, poi ci sarà la prima di campionato, insomma come ti senti? Ma mi sento bene perché diciamo dopo la bellissima... Eccole qua che stanno andando, scusa mister, eccole qua, vediamo anche qua con il nostro presidente Eccola qua con Mirko Antenucci Eh anche questa è bella Sempre a poca pezza Ti vogliono sempre all'attimo giusto insomma mister Stai dicendo scusami? No, dico che dopo la bellissima annata conclusa con la salvezza Dopo qualche giorno di pausa ci siamo incontrati con la società Tutti gli addetti a lavori o amici o consiglieri mi dicevano di lasciare dopo quattro anni straordinari Invece siccome io sono testato e secondo me qui c'è la possibilità di continuare Crescere non vuol dire salvarsi a 10 partite dalla fine ma vuol dire continuare a far sì che la SPAL possa disputare campionati importanti in serie A Quello è il nostro obiettivo Ci siamo incontrati con la proprietà, col presidente, col direttore Abbiamo deciso di continuare insieme anzi di rilanciare perché tutti insieme Insieme a voi, al nostro pubblico straordinario Di provare a raggiungere nuovi obiettivi Sicuramente quest'anno la conferma di questo campionato sarà ancora più difficile Ma sono certo e convinto che tutti insieme, come l'anno passato, riusciremo ad arrivare all'obiettivo Grazie mister Grazie Buonasera a tutti Ti lascio